Ben giunti! Eccoci qua con un nuovo unboxing, questa volta è qualcosa di particolare, il Welcome Baby Pack della Fiorentina. Mi è arrivato questo bel pacco che ora andiamo a capire. Come si fa a averlo? Intanto dovete fare una cosa bellissima, un bel bambino. Quando avete fatto un bel bambino, e quindi ora mi farete le congratulazioni perché a ottobre mi è nato un bel bambino, voi vi iscrivete al sito fiorentinababy.it, fate la tessera in viola e richiedete il Welcome Baby Pack della Fiorentina e vi arriva questa bella scappata. una cratola di latta viola con lo stemma della Fiorentina, questa è sicuramente la collezione da tenere perché è bellissima e vi arriva all'interno tutte queste belle cosine. Intanto leggiamoci la lettera. Sono felice di poter partecipare alla gioia di questa nascita con un regalo tutto viola che possa farvi sentire la vicinanza della nostra Fiorentina in questo momento così speciale. Tanti auguri con tutto il cuore del Rocco I. Commisso e visto il Presidente della Fiorentina ci manda questa bella lettera per ringraziarci di aver aderito a questa iniziativa e soprattutto per farci vedere queste belle cosine che ci sono all'interno. Ecco un voodoo, bello, tutto viola, con il leone della Fiorentina. L'andiamo ad aprire. Con questo vostro figlio sicuramente si divertirà da piccolo tifoso viola. Ecco qua, è morbidissimo. Stemma della Fiorentina non può mancare mai. Eccolo, morbido, morbido. Molto, molto interessante. Eccolo qui. Carino, veramente carino. Andiamo a vedere ancora cosa c'è dentro. Questo è un pezzo d'arte, un piccolo pezzo d'arte. Il ciuccio della Fiorentina con l'aceto viola. Questo, quando vostro figlio lo prende, già si sente un tifoso da curva. Sicuramente. Bellissimo. Poi cosa c'è ancora dentro? Andiamo avanti. All'interno c'è il bavaglino. Il bavaglino della Fiorentina, con tutti i disegnini. Viola, che non poteva essere altrimenti. Stemma della Fiorentina. Molto, molto carino. E questo è veramente il signor pezzo della scatola, il biberon viola. Molto carino, da tenere in mano. Poi quando vostro figlio cresce lo può tenere in mano anche lui. Stemma, anche qui, i disegnini. Tutto bello viola. Facciamo mettere il lattuccio caldo dentro. E va lì. Ottiva. Eccoci qui. Eccola lì. Super biberon Fiorentina. Ah, questo è veramente bellino, la baby impronta. La baby impronta. C'è questa scatola con tutto necessario per fare l'impronta della manina e del piedino di vostro figlio. E c'è tutto dentro. Eccolo lì. Tutto l'occorrente. Molto, molto carino. Cosa c'è ancora? Eccolo qua. Lo vogliamo vestire di viola? Vogliamo farvi vedere veramente che sia il tifoso totale. Eccolo, il body viola, bianco e viola, con lo stemma. Questo lo vestiamo e diventa già un signore della Curva Fiesole. Veramente grazie Fiorentina per questo bel regalo che mi avete mandato. l'unboxing è finito. Grazie, grazie, grazie. Alla grande. Ciao da spettacolone!